il pacchettamento faberlic è il mio secondo ordine il pacco è appena arrivato c'è anche una piccettina una gattina in piccina ecco la fa lei in piccina in piccina 6 quindi troviamo il cartoncino mi sa che l'ho aperto al contrario va bene comunque la prima busta la seconda l'ho aperto al contrario magari qui ci sono i cataloghi la nuova campagna è uscita questo qui è il catalogo con cui c'è il catalogo il vecchio qui c'è il porto pagato e quindi andiamo a vedere i prodottini qua già è uscito qualcosa quindi avete capito cos'è una crema qui la porta qui ci sono i detersivi e direi di cominciare a loro questo sarebbe in pratica della linea aromaterapia e sarebbe peonia orientale l'ammorbidente per lavaggi agitare con energia la fiala prima dell'uso adatto a vari tipi di tessuto ok e si può utilizzare sia per lavaggio di lavatrice che a mamma mia ragazzi il profumo è buonissimo il profumo è davvero buonissimo e poi ho preso il prodotto per il forno che questo può essere utilizzato sia per il forno sconsigliato solo per la pulizia di superfici sensibili dell'alluminio delle leghe con nickel zinco e altri metalli non ferrosi nonché superfici verneciate cromate pannelli e catalitici comunque anche questo lo proverò vi farò sapere mi hanno regalato il detersivo per la lavatrice questo è quello universale e in polvere detersivo concentrato universale 800 grammi anche questo poi ve ne parlo magari nei prodotti nei detersivi e terminati che c'è qua ci sono un po di campioncini dov'è il mio dentifricio tra poco arriva a qui c'è la barretta proteica che io ho preso a Diego al pistacchio sta pure di cibo della fabbrica pensiamo al reparto air care e skin care make up e altro allora della linea botanica ho preso una maschera per capelli sicuramente qui c'è di skin care dice non c'è scritto niente semmai e poi vi lascio sotto comunque era quella come lo shampoo che avevo preso l'altra volta e è 150 ml come al solito la prova e poi vi parlo nei prodotti preferiti insomma vediamo un attimo poi ho preso questa che invece è una crema per le mani notte cura in cura integrata 5 nono vi farò sapere anche questa com'è questo che stava in super offerta e latte vitaminico per il corpo kiwi avvocato e questa linea è fantastica l'altra volta avevo preso il bagno bagno doccia al melone e anguria è meraviglioso lo amiamo quindi ho voluto provare anche questa questa invece che è una maschera piedi di idratazione intensiva sempre della stessa linea di questo di questa qua per le mani poi c'è eccolo il dentifricio di nicolas al 97 per cento naturale e questo è al al ananas che carino che è un altro di quel dentifricio l'abbiamo preso anche per noi che questo è al carbone al carbone anche questo 97 per cento e anche questo è molto carino ma questo è per te papà sì invece questo è per me poi ho preso un altro shampoo della botanica perché quello che ho è fantastico e questo qua shampoo e balsamo due in uno rafforzamento e lucentezza per tutti i tipi di capelli io adesso faccio il custode di dentifricio bravo ho preso questo che sono i nuovi gel doccia e questo è messico la profumazione se riesco ad aprirla vi dico wow super fresca buonissima veramente perfetto quest'altro che ve l'ho detto li amo e adesso ho preso mango e papaya noi ne abbiamo già una languria e com'è quello è buono anche quello è tutto rosso del mio colore prevedito come di ribate sentiamo anche questo il profumo mamma mia ragazzi sembra frutta vera cioè fantastico lo amo lo amo poi adesso in questa scatolina per protezione c'è della linea expert il contorno occhi e contro il gonfiamento del della zona pelioculare questo infatti alle sfere non vedo l'ora di provarlo alle sfere che fanno anche una sorta di massaggio no ma già uscita buoni buono questo mi sa che pure se lo metti al frigo è eccezionale comunque mi dovrei provarlo e sono 10 ml di prodotto vi farò sapere vi farò sapere poi qua dentro sempre come vedete riparati da questo cartoncino troviamo per il viso e il profumo perché ho preso anche un profumo molti molti confezioni in una confezione smokey computer le ho preso questi che sono tutti e tre della stessa linea che è l'oxilo oxy log si chiama e sono la crema da notte per l'equilibrio e quindi per pelle grassa sono 50 ml la crema per il giorno della stessa linea e questa invece che è un opacizzante BB cream per il viso è un siero sempre riequilibrante che opacizza la pelle a effetto BB cream anche questi ve li proverò sicuramente e poi vi dico questi sono i codici dei prodotti e c'era anche un'offerta sulla crema giorno e da notte che insieme le pagavi molto meno e quindi ne ho approfittato ho preso anche loro ho preso un profumo fleurette si chiama un po raffreddato piccolo adesso lo apro vi faccio vedere che bella la bottiglietta ci sono anche gli ingredienti qua guardate che bella poi ve ne parlo wow no è buonissimo no è meraviglioso ragazze che buono cioè troppo troppo buono bellissimo mi piace anche il tappo qua che riprende un po la fantasia di mamma mia fantastico dei fiori comunque ve ne parlo poi in un video ne prenderò sicuramente qualcun altro e poi qui c'è la bustina con le cosine di make up che ho preso e ci sono ecco qua che bello questo che è le liner dovrebbe essere le liner blu le liner blu eccolo vedi c'è anche qua l'etichetta vediamo se riesco ad aprirlo vediamo com'è la punta ok eccolo va che bel pennellino e dovrebbe essere metallizzato questo ma è bellissimo cioè guardate che scrivenza fantastico per l'estate amo il liner colorati poi questo che è una novità bravo nico imparate pure russo così ok ce l'abbiamo fatta come la stenovo e giusto una foglia il che non va a carretto allora un attimo il liner questo qua è resistente è indicato appunto per chi fa sport e viola questo a pennarello bellissimo cioè hanno una scrivenza pazzesca ragazzi fantastico mi piace anche questo poi ho preso due matite di quelle che già avevo preso nera caccialla e una azzurra e una viola da abbinare ovviamente alle le liner appena presi guardate che belli stanno benissimo insieme sono fantastiche queste matite morbide si sfumano facilmente e poi ho preso il rossetto della linea renata che fa bellissimi i pecc anche la scatolina guardate quanto è bello sembra quasi un rubino e questo è il colore bellissimo rosso che vuoi dire troppo bello veramente io voglio dire una cosa mamma lussuosissima voglio dire una cosa mamma che vuoi dire nico io ho potuto fare un po' di io ho potuto un canale io ho potuto un canale si può anche troppo mi sono potuto e non ho potuto e non ho potuto e non ho potuto nuovo catalogo semmai faremo uno sfoglio insieme visto che inizierà lunedì la campagna e poi ci sono un po' di campioncini cioè un po' di mi sono presa con i bonus con le varie offerte per chi entra appunto in Faberlic questo era il mio bello ordinuccio adesso li assistiamo tutti vi faccio vedere per bene poi piano piano ve ne parlo ovviamente nei prodotti finiti e preferiti carbone ananas ciao ciao evviva Faberlic siiii con questo non ci lavo i denti ciao a tutti questa è la mia presentazione dei prodotti di oggi della Faberlic allora il primo prodotto è la barretta per papà al pistacchio barretta integrale di cereali proteica ammorbidente poi questa è l'ammorbidente della Faberlic lo so mamma non serve che suggerisci questo è comunque l'ammorbidente ha un profumo buonissimo poi quest'altro è un altro ammorbidente per la cucina da spruzzare i forni ah si per il forno l'ammorbidente per il forno e non suggerire per comunque dietro c'è scritto detersivo per forno si detergente per le stufe e forni anche per le stufe e comunque questo è per i panni che li rendono splendenti come il coccolino il detersivo lana sete e così via la dentifrici della Nuki faberlic questo al carbone per i grandi ovvero per mamma e papà e questo all'ananas per i piccolini come noi insieme ad altri frutti e quindi e quindi quello è per me ah shampoo 2 in 1 botanica è una mimosa l'erbe 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 buona giorni ah si buon giorni un shower gel molto professionale e profumato del Messico del Messico alza l'erbe ah no mango e papaya della faberlic vitamania dentifricio eh si dentifricio shampoo mini della faberlic la crema da notte un'altra crema da notte crema da giorno il pb cream questa fa bene il profumo il profumo flaturet con quello la contorno occhi il contorno occhi della faberlic eyeliner eyeliner un altro eyeliner viola un altro eyeliner questo è azzurro questo è viola questo è un altro azzurro più scuro questa è una maschera per i capelli crema corpo questa è una cosa molto lunga e stecchita crema corpo crema corpo poi crema mani e piedi crema mani e piedi hand and foot e rossetto e un rossetto per noi donne voi donne e una nuova campagna tutto a prezzi bassi e fissi da faberlic ciao bravo ciao 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 All'improv All'improv